Musica E invece non ho trovato un cazzo Presenta la copertina? Bariliera dell'Argentina Non è Messi Se pensi di guardare questo video e trovare alla fine Messi Non è Messi Se invece vuoi starmi vicino in questo momento di sconforto personale Lascia un like e guarda il video lo stesso Fu Champions We made it Easy Fammi vedere Fammi vedere che sono tutto emozionato Sono un po' tutto Primo pick Fuoriclasse Perché non avesse capito sono arrivato fuoriclasse Primo pick Manee 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 la raccetta Manee La raccetta Manee Yes baby Let's go to the second round Let's go to the second pick We are so much Caricking We are so much Loaded Ok man Oh yeah Vai con questo secondo pick Merida di stessi Ma hai dato Vabbè Ederson lo prendo Nel mio account Ragazzi C'è sempre stata la scaletta Cioè vedete il primo è quello più alto Il secondo medio Il terzo più basso Ma questo non accade Cioè con una canzone noi possiamo rigirare questa leggenda Io evoco con le sfere del drago L'onnipotente Pupo I need you Si può segnalare Pupo su Spotify? Voglio segnalarlo per favore Pacchetto mega raro Niente Carichi Mi dai Bruno Fernandez Mi dai Bisogna mettere il magliancino Scusate Ora ci siamo Dammelo buono Ti prego dammelo buono dammelo Ma dai ma dai Ma chi è? Amaravati Bandiera Quella è una minaccia di morte E noi direi che stiamo qui a pensare Apro e vado di va Ditemi voi che ho trovato Non voglio vedere Non voglio vedere Ho troppa ansia Mi fa male il cuore ragazzi Basta Ho aperto Più di 90 Mi senti? Dovete fare il drago Se è un top player Dovete fare Il joystick Quindi non è un top player Ma ne Fuori classe Sono fuori classe Sono fuori classe Sì, 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 ma ne ce l'ha così La musica è quella giusta Allora, di solito quella di sinistra è quella più alta Non è male Whistle L'ho trovato nel TOTS garantito e è illegale Orca ma... Ah, raga, sono messo male Sommer è illegale come portiere Eh, però Sommer come lo ibrido A me mi si può dire ma non... Ma che c***o me ne frega te la me mi? Ma consigliatemi chi comprare, chi prendere Ma fa schifo Sommer, un 83 Beh, ma chi sei, anagrafe Io prenderei Trap perché tanto non lo uso come portiere questo Quindi l'unica, l'unico modo che ho per usarli È buttarli dentro un SBC e Trap con la Germania lo ibrido meglio Ma che ho trovato? Jack Stix, te lo scecano Non vedo più, alle stelle Dalle stelle alle stalles Ho aperto, ho aperto È solo Bundes questo Dai che ce l'ha da buono, me lo sento Ma nooo, nooo C'è qualcuno... Quanto costa sto robo? Beh, ma costa un milione Scartato Lo scarto in live Non succede ma se succede sai cosa succede? Non lo so che succede Per me sì Per me è un sì Per me è un sì Allora sono 4 sì Sono comunque arrivato oro 1 E quindi i nostri pic boni li abbiamo I nostri pic devastanti Vero che saranno devastanti? Questi non sono devastanti Ci ho sperato Vabbè, ancora trovo indidi Davvero, davvero A luglio siamo ormai Ci farà un regalino? Ma certo che ce lo fa Ma guarda che regalo Proprio una cippa di ca... Bene Siamo giunti al termine anche di questa Magnifica giornata Un FIFA Ricco di emozioni Direi Io ho fatto proprio la Wicked League Per avere lui C'è Messi, Suare Griezmann Io trovo Park Giuse-Jong Ma dai Ma va a fare in Allora oggi Facciamo che io Apri i tuoi Te apri i miei Vabbè Te mi dai da aprire un Un top 100 E io ti do un top oro 2 Quindi Secondo me Lo scambio È onesto Devi farmi 3 milioni nei pack Easy 17,3 Perché sono lì Giovanni Quale vuoi? Destra o sinistra? Col gesto così Bello Guarda qua che colpaccio Questo qua è colpaccio È colpaccio Porca maia Io andrei di chiesa Vai di Federico Vai Il Fiorentino Doc Un chicco di Fiorentina In questa squadra Ci vuole Vabbè due giocatori rari Chiediamo questo qua Dove è finito l'ultimate? Non c'è Come non c'è? Walk out Guarda è incredibile Guarda Cos'è? Portogallo? No È fuori Renato Sarge Mi mandi Renato in su Gli altri scarta tutto Ah proprio Sì scarta tutto Anche le forme fisiche No Chiaro 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 Le forme fisiche Scarta tutto Scarta Madonna Che marcio Mi mandavi davvero le forme fisiche Walk out Ancora Che luce è? Ma chi è? Ma nel senso? Sì nel senso Attenzione Oh ma che pacchi sono? Ma che bru Ma sì vabbè Ma giocatori bruttissimi Non sono scambiare Non superano Questi li puoi tenere Gli altri scarta tutto Vabbè Scusa Un pacchetto mega Ci ha dato il walk out Giocatori rare Easy Back to back Proprio scritto Te parli troppo Vabbè ma che giocatore è questo? Quello di prima Ma li regalano oggi i giocatori Cos'è? Lo stuccio A lui lo tengo È lì che ride Mi piace Simpazzo Vabbè però I mega ti sei sfogato Ma poi ti sei proprio rintannato Scarta tutto Dopo un anno di FIFA Se trova ancora casiglia Se è giusto che venga scartato Basta Eh questo è rosa Eh ma che cartello Rosa Dennis Suarez Scarta tutto No c'è la sfida Ma scarta tutto Oh se l'altimente non è walk out Ti ti ha un puto Vabbè oh Già di un walk out in sei pacchi Cioè che cazzo vuoi Ti lamenti anche Come valore walk out era 82 Walk out 82 Neanche alla Caritas Guarda guarda qua che walk out Guarda guarda questo qua è icona Guarda icona Icona sì No 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 Icona dei miei stivali Nero Che schifo Nero che c'è Mattimo Werner È la madonna Mini boy è un comodino dell'Ikea questo Dai beh cavati dal cos'è Ti faccio vedere come si aprono i pacchi Su Oh Cos'è che vi Oh Non si scherza più 64 In centimetri del mio Come dicevano Gli antichi Bello Il pacchetto tosta ultimate È quello da 11 Quindi là mi devi fare almeno 3 milioni Sono già lì Ce li hai già in banca Vai a controllare Anzi 2 milioni e mezzo Mi devi fare Allora intanto qui Ti trovo Ronaldo Uno di 5 Così siamo tutti felici e contenti Sì sì Va lì che Ronaldo Benitez bella il Ronaldo dei portieri Vado un po' così a zig zag Mamma mia Uh Ederson Sì almeno vendo il mio Chi vuoi Dai però Dimmi chi vuoi Dai te lo faccio scegliere Neymar Toz Io voglio Neymar Toz Neymar To Neymar è qui Guarda Adesso sbuca Sì eccolo lì Nascosto bene No no Che lo puoi scarti Io sono marcione Conserva tutto Sì ma guarda Ti sembro preoccupato Non sono preoccupato Io sono sicuro che la botta Ce la dà Però è chiaro che questi Non posso pretendere Niente di che A me basta che la botta Me la dà l'ultimo a destra Oh walk out Eccolo qua Te l'avevo Te l'avevo Te l'avevo detto Ecco Pure a te un silencer No Verratti Eh buono 19.000 Se lo scartavo Mi dava di più Oh eccolo lì Eccolo lì Eee Dammi Fabinho Van Dijk Che cazzo è Oh Aurier Buono 76k 76 è calato Guarda che se tu hai la scorsa Era 180 Stai a vedere Ma dai ma fino a ieri Era 180.000 Cioè adesso i giocatori Che trovi nei pacchi Praticamente te li tirano dietro Io direi di aprire Il primo posto Il primo classificato Quello al centro E anche buono Nooo Quando hai da sta scritta È una merda È una merda No Ma 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 chi è Ma come fa ad essere Walk out Che 84 questo Ben Sebaini Ben Sebaini Beh ma che sti nomi Li usano per farlo spelling Lo usano Oh Ma guarda Non è walk out lui Ma non l'ho capito Beh Pacchetto Ricordiamo da un Ma che cosa vi ricorda Intanto lo sapete già Lo sapete meglio di me Un po' Guarda sono 2.8.000 Eeeh Te non ti preoccupare Argentina Cazzo è Banega No Il Papu Il Papu Beh però non è male Non guardare più i pacchetti Copriti il monitor Ti indico io i giocatori Che ansia Allora non guardare Non guardare Non guardare Non guardare Non guardare Comunque è bel quando ho visto Arzentino Ah no Io pensavo Messi C'ho avuto un brivido C'ho avuto Oh la casetta Un milione Bello spalmato Te mi hai chiesto 2 milioni e mezzo 1 milione e 20 Infatti Io ho trovato 2 milioni e mezzo T'ho trovato Buona buona E adesso se sei uomo Li scartiamo tutti No è che serio Li scartiamo tutti Per la gente di Youtube Si che la gente di Youtube Se ne va affan Come si riprende il joysticko Te li tiro su Te li tiro Eh buono Te li sei ripreso te No Ma io non ce l'ho più Bel controllo Lo sei ripreso te No no Non ce l'ho io Non ce l'hai il Depi Ah beh Non me li tira su Ma ce l'hai te No Ma perché devi schiacciare il cerchio Sono un momento de panico Ci stavamo giocando 200 mila così